Sono donatrice di midollo osseo. Ho deciso di diventarlo quando ho capito che la cura era dentro di me. Il mio dono può dare una seconda possibilità di vita a chi è in attesa di trapianto. Sono felice di essere una donatrice. Perché? Perché mi sento più viva. Quando doni il midollo osseo ti senti più vivo. Anche tu partecipa alla giornata di sensibilizzazione E tu, ai Midollo, organizzata dai volontari ADMO. Grazie a tutti.